L'arte valtellinese ha contaminato anche la capitale. Domenica l'associazione Progetto Alfa, presieduta dal giovane sondrese Massimiliano Greco, scenderà a Roma, nella prestigiosa location della chiesa di Santa Bibiana del Bernini, per una serata in cui poesia, musica e scultura si fonderanno in un tutt'uno, per raggiungere un solo obiettivo, combattere l'individualismo. Questo è un esperimento di contaminazione di arte valtellinese, porteremo infatti dei poeti valtellinesi e uno scultore che è Roberto Bricali, per sperimentare questo senso di comunità che appartiene a Progetto Alfa. Secondo me si è sviluppato in questo periodo quello che Banfield definirebbe individualismo amorale, ovvero un individualismo da parte degli artisti a non fare comunità. Invece adesso non ci sappiamo più caratterizzare da un punto di vista di movimenti artistici e questo è un grave handicap per gli artisti stessi, poiché a mio parere dovrebbero fare comunità. L'occasione di Progetto Alfa è proprio questa, unire più intenti però lo stesso fine, ovvero parlare d'arte. Il filo conduttore della serata sarà l'inquietudine, intesa come l'origine della ricerca poetica che viene trasformata in verso. Un filo rouge che vedrà protagonisti nel reading poetico, oltre a Massimiliano Greco, Giussi Gasparini, Teresa Cattaneo e Reniere Nera Romirez, insieme allo scultore Roberto Bricali, che sporla le sue opere in marmo e granito, il tutto allietato da intervalli musicali. Un appuntamento che ha già avuto un notevole richiamo. Tra i presenti spuntano infatti personalità di spicco, tra cui il vescovo della Pontificia Università Lateraniense Enrico d'Alcovolo e i membri dell'Accademia di Spagna. L'evento, come anticipato, si svolgerà nella celebre cattedrale di Santa Bibiana, tanto cara a Papa Giovanni Paolo II, che aveva ricordato come fossero importanti le testimonianze storiche ed artistiche per tramandare attraverso i secoli somma bellezza e bontà. Secondo me è molto importante questa citazione di Giovanni Paolo II, anche dal punto di vista laico, perché richiama esattamente quelli che sono i principi di Progetto Alfa, ovvero tramandare nei secoli proprio i sentimenti di bellezza, la bellezza delle opere d'arte, il senso di far continuare la storia. E gli stessi nostri poeti e scultori hanno l'obbligo morale, in questa location storica, di cercare di emergere, di cercare di tramandare la bellezza, il senso della bellezza.